Il Principato di Lucedio ha una storia ricca di leggende e misteri. Le leggende parlano di critte segrete, di salme mumificate e di abati seduti su dei troni disposti a cerchio, di fiumi sotterranei e di una colonna che piange, a causa degli orrori di cui sarebbe stata silente testimone. Una delle leggende più inquietanti è quello dello spartito maledetto. Si narra che un antico abate di Lucedio, un abile compositore, abbia scritto una melodia così potente e oscura che avrebbe avuto il potere di influenzare chiunque l'avesse ascoltata. Lucedio Il maestro avrebbe deciso di nascondere lo spartito in una cripta segreta per evitare che l'inquietante melodia finisse nelle mani sbagliate. Per secoli la leggenda dello spartito maledetto ha affascinato gli avventurosi e curiosi spingendoli ad esplorare Lucedio, alla ricerca dell'antica partitura. Tuttavia nessuno è mai riuscito a trovarla e coloro che sono avventurati nelle cripte di Lucedio raccontano storie di misteriose presenze, le suoni inquietanti che li hanno spinti alla fuga. Alcuni raccontano di aver sentito il suono di un flauto provenire dalla profondità della cripta, mentre altri affermano di essere stati circondati da una sottile nebbia e udire voci sussurrate provenienti dall'ombra. C'è chi giura di aver visto le salme dei vecchi abati muoversi leggermente e chi sostiene che la colonna che piange sia stata testimone di eventi soprannaturali. La leggenda dello spartito maledetto continua a suscitare fascino e timore tra coloro che si avventurano Lucedio, mentre la verità dietro la storia e misteri che avvolgono il principato rimane avvolta nel mistero e nel fascino dell'ignoto. Situato nella regione nord-occidentale dell'Italia, il principato di Lucedio ha una ricca storia, che ha contribuito alla sua importanza nel corso dei secoli. Il principato fu fondato nel XII secolo dai monaci Cisterciansi, che lo resero uno dei monasteri più importanti della regione. Grazie alla loro abilità agricola e al loro lavoro instancabile, i monaci trasformarono la regione circostante in un ricco terreno agricolo, rendendo Lucedio uno dei principali centri di produzione agricola del Piemonte. Nel corso dei secoli, il principato di Lucedio è stato al centro di numerosi avvenimenti storici. Durante il Medioevo, il monastero fu teatro di numerosi scontri fra le forze locali e le invasioni straniere, ma resistette sempre con coraggio e determinazione. Nel corso del Rinascimento, il principato di Lucedio conobbe un periodo di grande prosperità, quando la sua importanza economica e culturale raggiunse il culmine. Tuttavia, la storia del principato di Lucedio non è stata immune da tragedie. Nel corso della sua storia, il monastero fu colpito da terremoti, incendi e guerre, ma ogni volta riuscì a risorgere con rinnovata forza e determinazione. La resilienza del principato di Lucedio ne ha fatto un simbolo di speranza e rinascita per la regione. Oggi il principato di Lucedio è importante sito storico e turistico. I visitatori possono esplorare le rovine del monastero, ammirare l'architettura medievale e godersi la bellezza della campagna circostante. Inoltre, il principato di Lucedio è ancora un importante centro agricolo, con terreni fertili che producono una varietà di prodotti agricoli di alta qualità. La storia del principato di Lucedio è una storia di resilienza, determinazione e speranza e continuerà a ispirare generazioni di visitatori e residenti che saranno affascinati e ispirati dalla sua ricca storia e dalla sua bellezza senza tempo. Grazie! Grazie!